Buonasera a tutti, ci troviamo a Rocca, esattamente alla Perlassa, dove questa sera faremo una performance registrata perché naturalmente con il Covid non si può fare una cosa pubblica, però noi vogliamo lo stesso con dei canti natalizi augurarvi un sereno Natale perché sicuramente è un Natale molto diverso, però vogliamo che i nostri auguri arrivino tutti voi che ci avete seguito e sopportato per tanti tanti giorni, grazie a tutti e auguri e presto ci sarà la registrazione di questi canti Grazie Grazie